Bianco o blu, gol! Alice Martani, Alessia Martino, Elisa Mele, Giulia Belentu, Giorgia e Michela Vilesi, Sofia Neffi, Chiara Penemotti, Giulia Pezzotta, Petrice Piomani, Paola Plevani, Anna Maria Serturini, Simona Sviarmi, Maura Vangelisti, Nana Webeg, Sofia Zamarra e Giorgia Zanetti. Tutto lo staff merita un applauso ancora più caloroso, Alessandro Oro, il mister, Rinaldo Caio, dirigente accompagnatore, Savelio Medolago, preparatore dei portieri, Alessandra Vescovi, fisioterapista e Silvio Garbellini, l'assistente agli arbitri. Brave ragazze e bocca al lupo tra i finale. Bianco o blu Go